amici il 26 giugno e 28 giugno ci vediamo a celano il 26 c'è il vertical bellissimo durissimo un volo su celano il 28 c'è il trail una stupenda sky race oppure l'ultra trail uno dei più duri d'italia ci vediamo lì io ho partecipato l'altro anno e la ritengo una manifestazione che in centro d'italia credo che non abbia uguale percorso molto tecnico dei tratti belli esposti quindi è consigliato un minimo di conoscenza di certe difficoltà bene un saluto a tutti gli organizzatori del lavoro mi dispiace io non ci sono quest'anno ho deciso di riposare per questo periodo ciao a tutti salutone a tutti organizzazione perfetta divertimento sicurato vi aspetto mi raccomando il 14 giugno non mancate ciao a tutti oltre il serra di celano sono tre anni consecutivi che la faccio è una delle aree più belle del centro sud una buona organizzazione bellissimo percorso troppo 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 bella questa sarà la mia festa partecipazione in sei lezioni organizzato alla grandissima al grandissimo gruppo di amici del bs celano se non venite non potete capire grazie fernando grazie ragazzi venerdì 12 giugno 2020 inizierà la tre giorni dedicata alla montagna organizzato dal gruppo sportivo celano siete invitati tutti a partecipare